È giusto che tutti sappiano, i cittadini, e non vengono riportate notizie, informazioni non veritiere, la struttura ospedaliera di Scafati è dotata di un pronto soccorso Covid per i pazienti ovviamente positivi. Nel momento in cui il paziente deve essere ospedalizzato, il 118 lo trasporta presso la nostra struttura ospedaliera. Al momento nell'ambito della nostra asola il pronto soccorso Covid è presente solamente sull'ospedale di Scafati. Questi pazienti ovviamente se abbiamo disponibilità una volta stabilizzati e una volta valutati vengono ricoverati normalmente. È il problema quando nasce? Nasce nel momento in cui non c'è disponibilità di posti letto nell'ambito della struttura ospedaliera e quindi questi pazienti dovrebbero essere collocati su altre strutture. Noi tratteniamo queste ambulanze fin quando in poche ore riusciamo a dare certezza del ricovero. Nel momento in cui non abbiamo questa possibilità io credo che la centrale operativa si deve far carico di un trasporto secondario presso strutture ospedaliere Covid che diano ospitalità a questi pazienti. Questo è stato anche il motivo di una riunione che abbiamo fatto la settimana scorsa il 5 marzo sollecitata da me e dall'unità di crisi aziendale dove abbiamo partecipato i diversi attori del processo invitando anche l'attuale responsabile del 118, il dottore Violante, che in effetti si è reso disponibile a fare un protocollo che possa garantire un percorso per questi pazienti che arrivano al pronto soccorso del Covid ospitale di Scafati. Questo è un verbale, lo faccio solo vedere per dare anche contezza di quello che stiamo facendo che in effetti per evitare questo dicaggio organizzativo principalmente ai pazienti che rimangono per molte ore sulle ambulanze che ritengo che non sia morale da un punto di vista etico tenere queste persone su queste però dico che è una situazione complessa che stiamo cercando di affrontare e credo che se riusciamo a portare avanti questo protocollo potremmo risolvere il problema di cui si sta parlando.